La ricerca scientifica ha confermato che la meditazione ha effetti positivi sulla nostra fisiologia. Agisce infatti attivando il nervo vago che rilassa i nostri organi interni, attiva e disattiva i geni dell'infiammazione, abbassa la glicemia, la colesterolemia e la pressione. A partire da febbraio 2020 l'attenzione sarà focalizzata sulla leggerezza dell'anima, un obiettivo importante anche per il raggiungimento del peso ottimale. Focus del nuovo anno sarà l'alimentazione. Studieremo come la meditazione può sostenere un regime alimentare salutare. A ciascun partecipante verrà fornito un piano alimentare da seguire per tutta la durata del progetto. Parallelamente condurremo uno studio scientifico rigoroso per valutare l'effetto causale della meditazione. Gli incontri di meditazione guidati da un esperto, le lezioni del nutrizionista e le conferenze sul tema si svolgeranno in aula del 400 dell'Università di Pavia. Valuteremo l'effetto del nostro intervento su parametri biologici oltre che su parametri psicologici. Partecipate a questo progetto, sarà utile per voi stessi e per la ricerca scientifica.